Ok, sei pronto? Vai! Sei pronto? Sono calchissimo. Ottimo. Nome? Giorgio. Andrea. Ruolo. Allenatore. Preparatore fisico. Età? 52 anni, devi proprio chiedermelo. Ok. 34. Il tuo soprannome? Joe. Quello più insopportabile che mi dà Sonia per me. Descrivi il tuo collega? Un lavoratore, preciso e molto competente. Uno che si sa fare, molto prova. Una tua caratteristica? Umiltà. Simpatico. Un tuo difetto? Mi arrabbio facilmente. Rompi balle. Il tuo sogno nel cassetto? Ehi, a 52 anni hanno già fatto i sogni nel cassetto. Lo vivo dove vado e siccome tre anni che sono qua mi piaceva portare su di categoria questa società. C'erano tanti sogni nel cassetto. di sicuro a divertirmi sempre nel mio lavoro. La tua più grande paura? La morte. Ciò che sangue. Ah, che non ci siano le pizza il martedì. Piatto preferito? Ce ne sono tanti. La pasta mi piace tantissimo, però gli spaghetti e la carbonara. Lasagne. E la mamma. Tre parole per descrivere la squadra? Umile, lavoratrice e determinata. Zuccone, simpatiche e... La giocatrice più pazza barra simpatica? Eh, firma qua, non posso andare contro... Però sicuramente ce ne sono un po', eh? Perché sì, Moriconi, pazza, simpatica e... Sonia, Anna. No, ce ne sono un po' tante, dai. Cazzo. Più pazza, Gloria. Lei è la più simpatica? Nessuna. Due parole per descrivere questa società? Ne ha passate tante di società. Questa per me è unica e... Meriterebbe molto di più di quello che ha adesso. È sicuramente unica e... Famigliare. Eh, bene. Sono società con delle belle spalle larghe e che crede al futuro. Vino o birra? Vino. Prosecco. Prosecco. Non sono amante gli alcolici, però se devo scegliere il bietro. La partita più bella di questa stagione? Uff, la più bella che ho visto quest'anno. Eh, ce ne sono state un pochettino perché abbiamo avuto delle rimonte molto belle. Secondo me la partita che abbiamo giocato meglio in assoluto con la rimonte in casa, contro Cartiera dell'Arta. Tra due rimonta contro Cartiera. Cosa manca questa squadra? Fortuna. Non so più rispondere così. Non posso dire altro. Fortuna e basta. Un po' di fortuna. Che cosa aggiungeresti come personalità nel gruppo? No, niente. È ben rodata come squadra, c'è chi ha più esperienza, c'è chi ne ha meno e c'è chi porta gioventù e esperienze nello stesso tempo. Quindi è un bel mix, è una squadra molto bella d'allenare. Oh, nulla. Quale ragazza sgridi di più? Ce ne sono tante. Ultimamente Sonia, Sonia la sgrido tanto, però i palleggio. Allora. Ok. Quale non sgrido di più forse? Nessuna. Le sgrido tutte sempre. Un po' di più.